Certamente abbiamo sentito parlare di pranzi o di cene comunitarie, ma quanto organizzato domenica 18 giugno del gruppo Amare Stramare nel seicentesco borgo segusinese ha davvero dell'originale, una colazione aperta a tutti, circondati dal verde e dal profumo della montagna. Nato da un passaparola su Facebook e da qualche locandina esposta in paese, alle 8.30 i primi mattinieri si sono presentati lungo le vie del borgo per l'insolito ritrovo. Amare Stramare propone per la prima volta questa iniziativa che vuole essere una cosa simpatica e alternativa. Ringraziamo tutti, siamo felici perché la gente ha colto lo spirito, nel senso che oltre a condividere ha contribuito portando chi un dolce, chi dei cornetti, chi dei succhi di frutta e quindi è stato colto l'obiettivo dell'iniziativa. Ospite d'eccezione dell'evento è stato l'ottore ed appassionato di montagna Giovanni Carraro, esperto videomaker e documentarista, che ha poi accompagnato il gruppo attraverso un'escursione fino a Malga Molvine. Allora dopo la colazione è al centro di Stramare, è ora di fare l'escursione, saliremo a Migliese e da Migliese poi faremo un piccolo anello escursionistico che ci porterà a Malga Molvine dove andremo a vedere altre belle curiosità e poi torneremo giù nuovamente al Borgo Emigliese. Buona passeggiata! Siamo partiti per l'escursione! A Malga Molvine c'è stato l'immancabile punto di ristoro a base di pane, salame e formaggio, il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di vino, per poi proseguire la discesa verso Cenola e Migliese. Un evento alternativo davvero unico, così semplice ma così fuori dagli schemi, che caratterizza e conferma ancora una volta la fantasia, l'originalità e l'operosità dell'attivo gruppo Amare Stramare.